Mentre Capolona, primo comune della provincia di Arezzo, approva un ordine del giorno con cui vieta il gioco d'azzardo nel proprio territorio, quello di Arezzo si ferma solo per il momento alle critiche riguardo l'emendamento votato dal Senato, a tutela, secondo l'assessore Barbara Bennati, dei concessionari e penalizza i comuni. In questo modo, afferma, si gioca veramente d'azzardo sulla pelle della gente. In caso di revoca o di decadenza di concessioni di gioco pubblico per colpa dei concessionari, questi hanno diritto a continuare la loro attività per altri 90 giorni. Invece, i comuni che vogliono contrastare i danni che il gioco cosiddetto pubblico arreca ai propri cittadini, alle famiglie, alle comunità, vengono puniti. I comuni o le regioni che emanano norme restrittive contro il gioco d'azzardo, diminuendo così le entrate dell'erario, subiranno tagli ai trasferimenti che verranno interrotti solo quando le norme o regolamenti scomodi saranno ritirati. Non possiamo, afferma ancora la Bennati, che giudicare è vergognoso questo emendamento votato dal Senato. Comunque, il Comune di Capolona ha già votato appunto un ordine del giorno con il quale vieta il gioco d'azzardo nel proprio territorio e quindi si assume comunque anche il rischio di tutte le ripercussioni che sono contenute in questo emendamento. Chissà se qualche altro Comune vorrà emularlo.